Ragazzi, è ufficiale, è ufficiale, e io mi sto trattenendo perché li vorrei insultare tutti, da quella tifoseria di merda lì, alla società di merda, ai tifosi di merda l'ho già detto, a chi ha deciso, praticamente, e ovviamente non rispetta le regole, le leggi, i protocolli, perché il protocollo tra FGC e governo, perché Spadafora rappresentava il governo, e quindi è stato un protocollo stabilito tra FGC e governo, FGC e governo, punto, FGC e governo, punto. Ok, è ufficiale comunque per me da oggi la Serie A 2020-2021 per quanto riguarda Juventus e per quanto riguarda tutte le altre squadre, insomma, in generale, sarà semplicemente una competizione che seguirò per allenamento per la Champions League. Per me la Serie A 2020-2021 finisce oggi, finisce oggi, cazzo, finisce oggi, perché questa è una cosa vergognosa che solo loro possono fare i raduni per Maradona e non gli si disse un cazzo, dicono addirittura grandi, bellissimi, lo avessero fatto a Napoli o a Torino o a qualche altra parte, assembramenti, vergogna, bisogna punirli. Invece loro va benissimo così, ok? Perché fosse successa la stessa cosa per Paolo Rossi, avrebbero fatto un casino della Madonna. Poi, per quanto riguarda le dichiarazioni di De Laurentiis, sempre contro il sistema, non viene mai squalificato, paratici, sbagliando, manda fanculo, il quarto uomo viene squalificato un mese, De Laurentiis invece è intoccabile. Adesso tutte le società a livello europeo e mondiale hanno rispettato i protocolli, i rispettivi protocolli, tutte le società, tranne una perché lì il protocollo non è stato rispettato, non è stato rispettato, è stato provato che non è stato rispettato. Dopo Zilischi, la bolla era fatta dopo la positività di Zilischi, invece li hanno tenuti nelle loro famiglie, a casa con le loro famiglie, il giorno dopo sono addirittura allenati e non sono partiti per Torino perché avrebbero rischiato di andare incontro a sanzioni ben più pesanti a livello penale e sportivo, ok? Loro invece salvi, loro sono intoccabili, loro sono quelli che non si può dire un cazzo, è solo un cazzo, e poi perché siamo odiati? Perché ci odiate per il nostro folcore? No, va a cagare il vostro folcore di sto grande cazzo, siete odiati per altro, siete odiati, non per queste stronzate qua, siete odiati per altro, perché voi siete intoccabili, specie protetta, siete una specie protetta. Questa è la verità, questa è la verità, punto. Cazzo. Ogni volta è così, ogni volta è così, io parlo dei tifosi del Napoli, non dei cittadini, parlo sempre di calcio, a livello calcistico, tifosi del Napoli, punto. Adesso, adesso io mi aspetto e spero accada ciò, così verrà fermato il campionato definitivamente, ok? Non si svolgerà il campionato e poi l'UEFA deciderà di squalificarci le squadre dalle Coppe Europee e godo, perché ho caro a questo punto. Spero che tutte le squadre, società italiane, che hanno giocato con positivi o comunque non hanno presentato giocatori positivi, quindi che sono risultati positivi, spero che società come il Parma, che è stata bloccata, cioè il Parma è stato bloccato dall'ASL di Parma, ha chiamato la lega calcio, la lega calcio si è messa d'accordo con l'ASL di Parma, hanno fatto partire il Parma per Udine, partita che ha perso 3 a 2 il Parma, quindi anche il Parma ha il sacrosanto diritto di richiedere di rigiocare la partita, come il Genoa ha il sacrosanto diritto, dopo aver rispettato tutto il protocollo, di aver giocato la partita, ha perso 6 a 0 con il Napoli, ok? Con i positivi in campo evidentemente, ha il sacrosanto diritto di richiedere di risvolgere la partita, tutte le squadre, il Milan ha il sacrosanto diritto di richiedere di giocare tutte le partite nelle quali Ibrahimovic non c'era, tutte le squadre hanno il sacrosanto diritto di rigiocare tutte le partite che hanno perso e che non c'erano giocatori positivi, che non c'erano giocatori che sono risultati positivi, che come il Parma è stato bloccato dall'ASL, che altre squadre hanno perso 3 a 0, altre squadre hanno giocato addirittura in 9, allora, e parlo di Serie A, Serie B e Serie C, ovviamente la Serie A ha un protocollo che le altre non hanno, siamo tutti d'accordo, però parlo, e a livello europeo, a livello europeo e mondiale, l'Italia fa una figura di merda per questi qui, per colpa sempre di questi qui, punto. Questa è una grande figura di merda e meritiamo veramente di stare nell'oblio del calcio mondiale per non so quanti secoli, non anni, secoli. Perché siamo gli unici ad aver fatto passare questa vergogna, perché negli altri paesi l'UEFA, 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 eh, cari Napolitani, l'UEFA ha detto, no, o vi presentate contro, cos'era, la Real Sociedad, o la Zetac, ma adesso non mi ricordo, o perdete il traggio tavolino, vi siete presentati subito, non c'era ASL che teneva, eh, lì, non c'era ASL che teneva contro in Europa League, perché vi cagavate addosso, vi cagavate addosso. Questa è una grande vergogna italiana, perché è classico del movimento italiano. Adesso sono curioso di vedere anche quando metteranno, eh, troveranno la data, dato che la Juventus si trova coinvolta in uno schifo non voluto da lei, perché la Juventus ha rispettato le regole, e per colpa di chi non le ha rispettate si troverà un calendario pieno, zeppo di impegni, tra campionato Coppa Italia, Supercoppa Italiana e poi anche la Champions League, per colpa di questi qui, sempre colpa di questi qui, e colpa di una giustizia che non è giusta, poco a fare. Una giustizia che non esiste è una giustizia, è questa, è una sentenza politica. Nessuno mi toglie dall'idea, qualcuno sicuramente ha intervenuto, questa è una sentenza politica. Punto. Perché le norme c'erano, tutti si sono schierati a favore della Juventus, anche quelli più anti-juventini di tutti, come gli interisti, e quindi un qualcosa vorrà dire, un qualcosa, ovviamente a parte qualche decerebrato interista, però in generale un qualcosa, un cazzo di qualcosa vorrà dire. Se tutte le società si sono schierate, società, a parte le tifoserie, società si sono schierate con la Juventus, non con la Juventus, perché la Juventus non c'entrava nulla, perché la Juventus ha semplicemente rispettato le norme. Contro il Napoli si sono schierate, più che altro. Contro il comportamento del Napoli, e fine. Perché tutte hanno detto, noi abbiamo rispettato i protocolli, questi qui non lo rispettano. Allora, da ora in poi, ragazzi, da ora in poi, tutte le società che avranno un positivo, due positivi, potranno dire, all'ASL, della propria città, intervenite così noi non partiamo, non giochiamo la partita. E il campionato si ferma. E godo. E godo. Se si ferma il campionato non si finisce neanche quest'anno. E che poi ci sono gli europei, quindi tu rischi anche di non finire stavolta il campionato. Io stavolta godo veramente. Perché vi meritate questo. Punto. Ok? Per me, ripeto, la Serie A 2020-2021 finisce oggi. Ciao a tutti, fino alla fine Forza di Juventus. Sempre e comunque. Però, questo è proprio l'emblema dello schifo italiano, che c'è solo in Italia. Ah, finisco con una cosa. Il signor Agnelli, invece di pensare alle stronzate, vediamo se interviene questa volta, no? Vediamo se interviene questa volta che ha rispettato le norme, ha fatto tutto bene, e si trova coinvolto in questo schifo, con un calendario pieno zeppo di impegni adesso. Vediamo, vediamo. Farei qualcosa o starei lì a guardare e a non dire un cazzo? Perché direttamente tu non c'entravi, la Juventus non c'entrava. Però indirettamente sì. Perché adesso ci troviamo incasinati pure noi. Ciao a tutti. Voglio concludere con una cosa, ragazzi. Se quando si giocherà la partita, perché parlo addirittura di maggio, una data possibile maggio, sì. Giochiamola dopo l'europeo. Per questi cazzoni qua, va bene. Quando si giocherà sta partita, caro Agnelli, se tu hai veramente le palle, farai, ti presenterai in quella partita lì con o l'Under 23, o con la primavera, o con gli Under 17, chi cazzo vuoi, non con la prima squadra. Devi fare questo. O non ci presentiamo nemmeno. E c'è di te. Ok? Perché per me quella non sarà comunque una partita di calcio. Per me non sarà più un campionato di calcio questo. Fine. Ciao a tutti.